Quando si parla di e-commerce si parla sempre di automazione, si parla di automatizzare alcuni processi. Di fatto un e-commerce è la primissima forma di automazione. Perché si apre un e-commerce? Perché invece di prendere gli ordini al telefono o di persona, via messaggi, eccetera, si crea una piattaforma che automaticamente è sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a raccogliere degli ordini. Potenzialmente nel tuo network, ma anche al di fuori, un sito è virtualmente raggiungibile da qualunque persona sulla faccia della terra. Quando però si parla di automazione si parla anche di approssimazione. Si tratta di creare una serie di schemi preimpostati per l'interazione in certe modalità operative. L'interazione nell'acquisto, l'interazione di una domanda con un customer service, eccetera. L'automazione quindi è un valore assoluto dell'ambito digitale, e ancora più del commercio da più di vent'anni. Ma non è tutto. E lo vediamo oggi con un ospite, con un caso molto molto particolare, di una sorta di automazione gentile in buona sostanza, che è diventata anche un progetto di business. Un progetto di business che ormai ha tanti anni, sta crescendo ulteriormente e sta anche mutando in modo assolutamente positivo. Fatta questa introduzione, introduco un collega e un amico, Giuseppe Noschese. Ciao Giuseppe. Ciao Domenico, buongiorno a tutti. Grazie, grazie per avermi invitato oggi. Benvenuto in questo piccolo spazio di 4ecom. Dunque, Giuseppe, ho fatto questa introduzione per parlare di un progetto a cui tu lavori ormai da quanti anni? 4, 5 anni? Dieci, dieci, dieci. Dieci addirittura? Ok, non mi ricordavo fosse così tanto. Il progetto è quello della bottega del calzolaio.it. Prima però di andare lì e vedere questo caso davvero, davvero fascinante di, diciamo, di automazione gentile, di business one to one che si interseca con l'artigianale, col calzolaio, eccetera. Diciamo, presentati brevemente per chi ci ascolta. Quindi, chi sei e di cosa ti occupi? Vabbè, diciamo, inutile dire che mi chiamo Giuseppe Noschese perché c'è anche indicato sotto, quindi... Quello era chiaro, ecco. Per chi pensava fosse la didascalia, no, è proprio il suo nome. Faccio due cose nella vita, principalmente. Quindi mi occupo di consulenza, appunto, per le aziende che vogliono vendere online o vendono già online. E poi mi occupo di formazione sia all'interno delle aziende, sia in eventi e in occasioni come quella di oggi. Quindi per condividere e divulgare quella che, diciamo, chiamiamo cultura digitale. Quindi informare chi si sta avvicinando a questo mondo. Quindi mi occupo principalmente di questo. Peraltro sei anche uno degli organizzatori dell'e-commerce hub, ricordiamolo. E anche, appunto, un appuntamento con un podcast che si chiama Cultura Digitale, corretto? Corretto, corretto. Grazie, sì, sì. Cerchiamo, appunto, di condividere quelle che sono le esperienze che facciamo. Assolutamente. Poi mettiamo anche il link nei commenti a questi due progetti. Sperando che i Commerce Hub riprenda il prima possibile, dato che è un evento di persona, quindi in questi periodi, molti pochi e venti di persona, ecco. Sì, 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 infatti. Ok. Allora, in questo incontro, diciamo, il titolo di questa puntata, nello specifico, si chiama e-commerce calzolario e rapporto one-to-one. È una specie di purpurri di keyword buttato lì per descrivere quello che, in buona sostanza, è il mio sentire del progetto della bottega del calzolario.it, che tu segui ormai, appunto, da dieci anni. Spiegami come nasce il progetto digitale della bottega del calzolario. Quindi da dove parte il tutto? Parte da un digital first o ha un inizio, diciamo, analogico? Spiega un po'. No, no, no. Diciamo che ormai Bottega non è più un cliente per me, cioè è come se fossi l'imprenditore digitale all'interno dell'azienda, quindi è parte della mia storia. Naturalmente parte da una storia analogica, quindi è un'azienda oltrecentenaria che ha oltre cento anni, nel 1916, quindi immagina cinque generazioni di artigiani che si tramandano questo mestiere di riparazione delle scarte, delle borse, della manifattura, quindi della realizzazione anche di articoli made in Italy. E quindi loro esistevano già, avevano già delle botteghe. Quindi la parte digitale nasce proprio dall'incontro e dalla voglia, soprattutto dall'incontro mio con i titolari di ultima generazione che sono poco meno che trentenni, quindi rivolti già al digitale proprio per DNA e quindi della loro voglia, della loro ambizione di portare il loro mestiere, la loro esperienza alle persone, quindi a tutta digitale principalmente e permettere di fare riparazioni, di anche di curare i propri prodotti in pelle, le proprie scarpe, rendersi cura dei propri piedi. Quindi portare quello che avevano offline online, quindi un po' come tutte le storie, diciamo, delle PMI italiane, se vogliamo. Ok, e quindi questa è la parte puramente digitale. Però all'inizio facevo nella introduzione, diciamo, anticipavo un po' quello che è il punto, secondo me, affascinantissimo di questo progetto. A parte il portare online un progetto così artigianale, in una verticale, merceologica così stretta, specifica e soprattutto combattuta, perché ovviamente, insomma, calzolai non se ne vedono tanti in giro. Figuriamoci online, ecco, mettiamola così. Ma soprattutto non punta al mass market. E questa è una cosa abbastanza particolare degli e-commerce, soprattutto di tantissimi e-commerce a cui abbiamo lavorato anche assieme e a cui hai lavorato anche tu, perché in generale il punto dell'e-commerce è fare un investimento che in una sostanza puoi spalmare su una platea fondamentalmente infinita, che comunque puoi reperire tramite l'Ads, tramite la SEO, eccetera, eccetera, ma il punto è spalmare una certa spesa, l'e-commerce ha una spesa importante spalmata su una platea potenzialmente infinita. Nel vostro caso, invece, un po' per necessità e un po' per convenienza, vi siamo andati a chiudere in una nicchia, ma avete anche reso dei processi che normalmente sono completamente automatizzati o quasi completamente automatizzati, lato e-commerce, li avete in buona sostanza ricondotti all'1.0. Cioè, in altre parole, spiegami il percorso che ha portato proprio dalla bottega al sito della bottega e poi di nuovo dal sito alla bottega tenendo il piede in due scarpe. Cioè, questa omnicanalità, ecco, in altre parole. Ti prego, descrivilo magari brevemente, ma è una storia, è una cosa particolare, certo di farti la versione breve. Diciamo che quando siamo partiti nel 2011 c'era proprio questo dubbio che hai detto tu. È una nicchia, cioè, è piccolissimo. Era il 2011, praticamente non c'era nessuno, quindi non avevi benchmark, non c'era niente. Quindi la prima cosa da fare era capire, ma sto mercato è abbastanza grande per giustificare tutto quello che abbiamo nella testa. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto era validare in qualche modo il mercato. Sai, si parlava di PMI 2011, gli investimenti non potevano essere così grandi, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la cosa più semplice e economica possibile in quel momento, ovvero validare il mercato, quindi i prodotti che volevano offrire attraverso i marketplace. Quindi siamo andati lì, siamo aperti i nostri negozietti, prima con eBay, poi siamo passati ad Amazon e abbiamo capito che effettivamente, cavolo, c'era qualcuno che stava cercando quei prodotti online. Quindi... Vediamo, peraltro, il sito proiettato adesso in condivisione. Sì, 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 sì. Se vuoi anche scorrere un po', mostrarci qualcosa mentre parli. Diciamo che questo è un po' quello che oggi è diventato Bottica. Prima non era questo, ci siamo arrivati con il tempo. Quindi la parte di calzone online, che ti racconto a breve, è la parte di cuoieria, quindi i prodotti in pelle che realizzano gli artigiani. La cura della scarpa, che è stata un po' la genesi di tutto, è la cura del piede, quindi solette plantare il mondo della cura del piede. Quindi questi sono i quattro macromondi, quindi un po' di stile, un po' di fashion, molto how to, quindi molto come fare qualcosa, come prendersi cura di qualcosa. Quindi quali sono i problemi principali. Questa è stata un po' la, come dire, la chiave di volta, perché ci ha aiutato molto l'esperienza che i ragazzi facevano in bottega e che poi replicavamo online. Quindi quali erano i problemi, quali erano le esigenze delle persone che andavano nelle diverse botteghe e dicevano, guarda io ho un alluce valgo, che cosa posso utilizzare? E da quelle cose lì siamo partiti, siamo andati online creando un blog, che qui non viene menzionato perché lo utilizziamo strategicamente proprio per la parte informazionale. Quindi cerchiamo di intercettare le persone che hanno quel problema e poi le accompagniamo all'interno della soluzione. Quindi proprio il classico approccio problema-soluzione. Quindi come posso fare questa cosa, come posso andare a pulire una scarpa in camoscio e quindi poi fargli vedere tutti quelli che possono essere i prodotti, le soluzioni. Quindi per ogni prodotto, vedi, anche noi all'interno della scheda prodotto cerchiamo di far vedere subito dove lo puoi utilizzare, cosa non ci puoi fare, qual è l'applicazione. Quindi cerchiamo di accompagnare il cliente nella scelta, cercando di semplificarlo. Per ogni prodotto abbiamo cercato di fare delle video guide, quindi anche YouTube è diventato un canale strategico perché da lì si acquisiva traffico. Quindi come colorare le scarpe di camoscio nero e quindi fai vedere come... Giuseppe, ok, questo è molto interessante, però mi sa che rischiamo di perdere il filo. Siamo alla questione di omnicanalità, diciamo, di multicanalità, praticamente omnicanalità in buona sostanza, da quello che mi hai raccontato. Sì, sì, praticamente poi siamo arrivati all'e-commerce, quindi attraverso questa esperienza abbiamo iniziato a vendere online, quindi con il nostro e-commerce abbiamo realizzato questa parte, diciamo, di vendita. Ma attraverso un altro elemento fondamentale, direi, che è importantissimo nell'e-commerce, che è il customer service e l'incrocio degli input arrivati dal customer service, con i dati che avevamo raccolto dai vari marketplace, dall'e-commerce, uno degli obiettivi, la genesi, uno degli obiettivi della bottega era quella di cercare di aprire nuovi punti vendita e quindi loro in campagna erano radicati bene, però attraverso l'unione dei dati dell'e-commerce, quindi quante vendite arrivavano in una certa zona, gli input del customer service, cioè avete un punto vendita lì, abbiamo incrociato questi dati e siamo riusciti, quasi con una precisione, come dire, di quartiere, non dico di strada, ma di cap, a identificare un punto preciso dove andare ad aprire una bottega, cioè un punto vendita fisico, quindi abbiamo fatto il percorso inverso, quindi non siamo andati lì, abbiamo detto ok, scegliamo la strada lì e iniziamo a farci conoscere, ma avevamo già i clienti davanti alla porta che ci aspettavano quando abbiamo fatto l'inaugurazione. Questa è stata, secondo me, come dire, una delle cose bellissime di questo progetto, perché... Quindi avete, diciamo, utilizzato l'online, a parte per fare business, eccetera, ma anche come una sorta di indagine di mercato per capire in quale area andare a collocarvi fisicamente, quindi praticamente l'online come trucco per l'inagine di mercato ad aprire, cioè è una cosa fantastica, devo dire. Sì, 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 chiave sicuramente il customer service, perché quello, secondo me, siamo d'accordo con questo, tu sei un fautore di questa cosa, cioè è uno degli elementi fondamentali, sono le micce che ti fanno partire, come dire, la genesi delle cose, cioè andare a scavare poi nel dato specifico. Nel feedback, sì, sì, assolutamente. L'altra cosa, come dire, a chiusura di questo processo è stato che da lì ci siamo resi conto che comunque era oneroso quel processo ed era poco scalabile, cioè aprire tanti punti vendite in Italia con questa procedura sarebbe stato lungo, anche se il dato da acquisire è veloce, ma per un fatto della tipologia dell'azienda, perché devi prendere un artigiano capace, lo devi andare a mettere lì, perché deve comunque deliberare la lavorazione. Deve essere il loco, insomma. Esatto, esatto, quindi lì abbiamo dovuto, tra virgolette, sacrificare parte della famiglia, uno dei fratelli che è andato lì, si è stabilito lì e quindi ci siamo detti, eh cavolo ragazzi, ma noi diecimila fratelli non ce li abbiamo da distribuire in Italia. Mettiamo la famiglia allargata proprio. Diventa difficile. E quindi come possiamo fare? Sfruttiamo di nuovo il digitale. E lì abbiamo sondato in maniera inversa e quando ci contattavano, dicono noi dobbiamo fare questa cosa, ma avete un punto vendita, a posto di acquisire l'informazione e dire no, purtroppo no, mi vediamo adesso, mi hanno detto guardi, possiamo fare una cosa, avevamo acquisito ormai un'esperienza logistica negli anni enorme, proviamo a fare una cosa, vuole che veniamo a casa, le ritiriamo il prodotto, torniamo in azienda, lo ripariamo e glielo li mandiamo a casa, ta, altro business, siamo arrivati a digitalizzare il calzolaio, cioè proprio la bottega sotto casa diventa online e quindi è nato uno spin off che è calzolaio.online dove tu sostanzialmente vai lì, ti guardi, diciamo, quello che vuoi fare, le riparazioni che offriamo, crei un preventivo, dall'altra parte abbiamo scelto uno degli strumenti più veloci dal punto di vista dell'esperienza utente che Whatsapp e lì si va proprio one to one, quindi proprio come se si fosse al banco, ricevi la signora e dici, signora, qual è il problema? Io ho questa borsa, ecco, guarda, ti faccio vedere il video, qui si è rotta così, qui si è rotta così e dall'altra parte c'è il customer service che dice, ok, signora, va benissimo, faccio vedere subito ad un artigiano e poi quando si chiude il preventivo la borsa arriva in azienda e dall'altra parte l'artigiano che fa vedere l'esperienza della signora con la borsa che vede che sta lì in mezzo a tutto il banco di lavoro, tutte le cose, dice, guarda signora, adesso facciamo questa cosa qui, la sistemiamo qui, prendiamo questo colore, le piace, vede, è uguale, questa vernice, vede, l'applichiamo qui, diventa, applichiamo questa resina, facciamo questa cosa, ricostruiamo questo manico, quindi lavori che poi sostanzialmente, come dicevi all'inizio, impraticabili perché è difficile trovare il calzolai sotto casa, quindi i calzolai stanno finendo e quindi noi in questo modo grazie a un po' questo processo che è nato un po' per caso, un po' per voglia, ma ci siamo arrivati con il tempo perché magari oggi le persone sono più pronte a una tipologia di esperienza del genere, l'avessimo fatto dieci anni fa, probabilmente nessuno ci avrebbe affidato una Chanel da 5.000 euro o da 10.000 euro da far girare in Italia, quindi diciamo su questo anche il tempo è stato importante, quindi forse era arrivato nel momento giusto. Quindi diciamo avete rotto un po' un mantra dell'ambito e-commerce rinunciando a un pezzo di automazione, però perché era coerente con il vostro concept, con gli articoli di cui si parla, con il tipo di servizio offerto, ecco che è appunto un servizio one to one di altissimo livello in un ambito che sta praticamente scomparendo e che online in buona sostanza, insomma, io non ho visto tantissime alternative, anche quando ci abbiamo dato un'occhiata assieme, non ho visto tantissime alternative online, diciamo, al calzolaio vostro. Ok, Giuseppe, grazie mille della tua, della tua, diciamo, della tua testimonianza. Prima di lasciarti ti chiedo un piccolo spoiler, perché mi hai detto che stai per uscire con un libro, no? Sì, sì. Il titolo sarà? Eh, e-commerce startup, come iniziare con il titolo giusto. Voglio fare un piccolo spoiler per chi ci ascolta, una cosa che mi ha colpito tantissimo quando me l'hai parlato, proprio in due minuti. C'è un capitolo che si chiama praticamente Ma chi te lo fa fare? Vai su quello, proprio, vai proprio in due minuti sul capitolo che si chiama Ma chi te lo fa fare? Cerca di farci capire, di comunicare il perché uno dovrebbe leggere un libro, dopo un capitolo, dice Ma chi te lo fa fare? Vai, perché in realtà è una cosa molto utile a chi vuole iniziare appunto un business online. Diciamo che il libro stesso è finalizzato a Ma chi te lo fa fare? Cioè nel senso che prima di dire, ok, andiamo online, ho cercato di racchiudere un po' l'esperienza che è stata anche l'esperienza fatta proprio con bottighe, perché lì, come dire, ci si è sporcati le mani in prima persona e quindi tutti gli strumenti a disposizione oggi di tutti che ti permettono di capire appunto, ma sei sicuro che lo vuoi fare? Cioè ma chi te lo fa fare di fare e-commerce? Cioè vedi che prima di arrivare a dire, ok, facciamo e-commerce, ci sta tutta una storia da andare a vedere, la puoi verificare, la puoi testare, la puoi validare, la puoi, come dire, andare a verificare prima di dire, ok, sì, facciamo e-commerce. Quindi il senso è quello, cioè, ma chi te lo fa fare? Perché spesso si arriva appunto direttamente alla, soprattutto in questo periodo, e qui mi mi sarà testimone, cioè oggi tutti vogliono fare e-commerce, cioè dall'anno scorso avesse avuto una fabbrica di sviluppatori di e-commerce al chilo, sarebbe stato bellissimo, ma inutile, perché appunto, cioè, la domanda era, ma perché vuoi fare e-commerce? E-commerce è perché adesso online si vende, cioè, quindi era quella la risposta, ma senza una ragione precisa, quindi se uno vuole capire chi te lo fa fare prima, si risparmia un po' di soldi, diciamo, il mio, la mia missione è stata questa, cioè cercare di farti arrivare alla consapevolezza, ok, no, è meglio che lascio stare, non, e-commerce forse non è la soluzione giusta, non è per me. Diciamo che l'e-commerce in effetti rischia di essere quella che era fino a sette, otto anni fa l'internazionalizzazione dei processi delle aziende, ma soprattutto delle vendite aziendali, fino a sette, otto anni fa girava questo mantra per cui, ah no, ma guarda, è un'azienda in Italia, bene, se no, espanditi all'estero, nuovi mercati, acquirenti infiniti, sì, però anche a quale costo, la logistica, la scalabilità, poi fortunatamente questa cosa si è assorbita. Adesso è il momento dell'e-commerce, che la panacea di tutti i mali, guarda, sì, inizia a vendere online come se non avesse costi, come se non avesse dell'expertise da tirare in ballo, una forma mentale diversa, no, in effetti hai fatto bene a chiamarlo in un modo così esplicito, ma chi te lo fa fare perché analisi, costi, benefici dell'andare online forse sarebbe stato troppo gentile, in effetti. Ok, Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo, siamo a 21 minuti e dobbiamo chiudere questo piccolo, questo piccolo, diciamo, intervento. Io ti ringrazio tantissimo di essere venuto e per chi ci sta vedendo in diretta, in differita, lasciate pure i commenti su Facebook, LinkedIn, YouTube, vi risponderemo anche in differita nel corso delle prossime ore. Certo che sì. Grazie, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.